Eccoci! Oggi, 3 febbraio 2015, siamo a Tomo, sul lago di Tomo, lago di Tomo e lago di Lecco. Gennaro Gialmini, Alessandro Manzoni, i promessi sposi di Alessandro Manzoni. Un video che ripercorre i sentimenti, benissimo. Allora, qua il più bel sentimento, io non sono papà, ma ho preso in prestito questo foglio in cui c'è scritto, ti voglio bene papino. Una cosa molto bella, molto bello sentirselo dire, certamente. Ti voglio bene papino. Ho preso in prestito, anche questi sono i sentimenti. E di cosa parliamo oggi? Alessandro Manzoni, i sentimenti, la grandine. Quando Renzo, che poi si andrà a sposare con Lucia Mandela, promessi sposi, esce dall'Azzaretto, luogo di detenzione per la peste bubonica che c'era, che era la peste bubonica, esce e trova la grandine. La grandine liberatoria, appena infatti ebbe Renzo passata la soglia dell'Azzaretto e presa dritta per ritrovarla a Viottola di dove era sbocciato la mattina sotto le mura, in principiò come una grandine di goccioloni radi e impetuosi, che battendo e risaltando sulla strada bianca e arida, sollevavano un minuto polverio. Renzo, in un momento diventarono fitti e prima che arrivasse alla Viottola, la veniva giù a sette, tantissime, tanto, tanto. Renzo, invece di inquietarsi, di impaurirsi, di inquietarsi, si spazzava dentro, si divertiva perché era libero, era la libertà. Un aereo che vola, anch'esso è libero, prende... Vediamo di riuscire a... Anch'esso è libero, adesso prenderà lo slancio e salirà. Eccolo, e vai verso la libertà. Renzo, invece di inquietarsi, non si inquietò, non si... non aveva un timore, si spazzava dentro, allegria, era allegro, perché era uscito all'azzaretto, l'allegria di essere usciti da un luogo di reclusione, il lazaretto, per la festa di Sponica. Se la godeva in quella rinfrescata, in quel citturrio, in quel brulichino dell'erba e delle foglie, in tremolanti, gocciolanti, in un verdite lustre. Metteva certi respironi larghi e pieni. In quello risolvimento della natura, sentiva più liberamente, più vivamente, quello che si era fatto nel suo destino. Bellissimo. Ma quanto rispetto e in vero sarebbe stato questo sentimento se Renzo avesse potuto indovinare quel che si vide pochi giorni dopo. Che quell'acqua portava via il contagio. Che dopo quella, il lazaretto, che non era per restituire tutti i viventi che conteneva, almeno non avrebbe più ingoiati da altri. Cioè, il lazaretto si liberava degli affestati che non lo erano più. Che tra una settimana vedrebbero riaperti usci e botteghe. Non si parlerebbe quasi più che di quarantena. E della peste non rimarrebbe se non qualche resticciola qua e là. Quello strascico che un tal flagello lasciava sempre dietro a sé per qualche tempo. Andava dunque il nostro viaggiatore allegramente. Senza aver disegnato né dove, né come, né quando, né se avessero a fermarti la notte, premurosa soltanto di portarsi avanti, di arrivare presto al suo paese, di trovare con chi parlare, a chi raccontare, soprattutto di poter presto rimetterci un cammino per pasturo, in cerca di Agnese. Agnese era la madre di Lucia, che era la promessa sposa di Renzo. Renzo esce dal lazzaretto, perché poi i due si sposano. Andava con la mente tutta sottosopra delle cose di quel giorno. Certo, libero, ma di sotto le miserie, gli orrori, i pericoli, veniva sempre galla un pensierino. L'ho trovata, è guarita, è mia. Io, proprio, già basta così, perché si capisce tutto. Un grande sentimento. E andiamo adesso a vedere la parte turistica. Io spero che abbiate compreso questa parte così bella. E adesso vediamo la parte turistica. Alessandro Mangioni, Como, 3 febbraio 2015, Gennaro Giolmini, in questo video di sentimento. Il Tempio Voltiano a Como, Lago di Como, Tempio Voltiano di Alessandro Volta, l'inventore della pila, grazie alla quale possiamo fare questo film. però non era inclusa, l'ho comprata. «Quo'è questa unica». «Quo'è questa unica» «Quo'è questa unica» Grazie a tutti. Grazie a tutti.